Amanti dei dividendi accorrete perché oggi vi dico alcune aziende che a mio parere non devono mancare in un buon portafoglio da dividendo o perlomeno, visto che questi non sono mai consigli finanziari vi dico che io le inserirei o magari forse le ho già nel portafoglio per cui anche oggi ci pappiamo un bel pasto fumante di dividendi, state fino alla fine se volete sapere quale io abbia in portafoglio I video di queste ultime settimane sono tutti risultati di un sondaggio che avevo fatto un mesetto fa e che aveva dato una specie di classifica che credo si completi, si vada a concludere proprio con questo video Quali potrebbero essere le migliori azioni da dividendo per questo 2023? E anche oltre magari? Non ti faccio perdere tempo e ti dico che ne te ne darò 3 più 2 aziende bonus perché oggi mi va così e secondo me l'ultima la conoscono in pochi per cui non scappare via, stai fino alla fine Per questa lista tenete sempre in considerazione che io ho una predizione particolare per le azioni che diano sia un capital gain che è una situazione di dividend growth ma che in molti casi sul mercato si trovano tantissime aziende molto mature dalle dinamiche prevedibili per cui anche un rendimento che sia più o meno stimabile Niente high yield questa volta ma solide basi su cui costruire un futuro Caterpillar col ticker CAT, C-A-T Caterpillar è il principale produttore mondiale di attrezzature per le delizie e le estrazioni minerarie, motori diesel e gas naturale L'azienda con sede in Texas opera attualmente in 193 paesi con oltre 160.000 dipendenti Un paio di anni fa ci fece anche un bel approfondimento e se siete interessati a questa azienda come lo sono io perché ce l'ho in portafoglio fatemi sapere nei commenti qui sotto che lo faccio volentieri Quali sono state le prestazioni di Caterpillar nell'ultimo anno, anzi da inizio anno ad oggi? Sono state molto più basse di quello che l'indice S&P 500 che è la data di oggi attorno al 19% year to date mentre CAT si è fermata attorno al 10% comunque year to date Un risultato che di per sé possiamo definire comunque positivo Penso che l'azienda possa recuperare nella seconda metà dell'anno poiché le prospettive sono molto positive a mio parere Le spese complessive per l'edilizia continuano a crescere mentre l'edilizia residenziale sta iniziando a riprendersi Lo vediamo anche dal fatto che molti REIT stanno cominciando a rifare qualcosina di capital gain per cui il settore immobiliare comincia a stabilizzarsi La crescente domanda di materie prime e minerali dovrebbe inoltre rappresentare un importante evento a favore Vi dice qualcosa la parola semiconduttori? CAT ha un market cap di quasi 134 miliardi di dollari Un divi degli yield al 2% che cresce da 29 anni consecutivi e che negli ultimi 5 anni è aumentato con una media del quasi 9% su base annua Ha un margine lordo del 27% leggermente al di sotto del 29% della media del settore Di contro ha un margine netto dell'11% con una media di poco al di sopra del 6% del mercato di riferimento segno a parer mio di una migliore gestione Non è un'azienda a sconto anzi infatti si trova ai massimi delle ultime 52 settimane e per cui io ci andrei coi piedi di piombo per un ingresso fatto in un'unica soluzione Ma vi dico che tutte le aziende di cui vi parlo oggi non sono a sconto Passiamo poi a Union Pacific Company con il ticker UNP Di Union Pacific ne abbiamo recentemente accennato qualcosa visto che è la parte del video sul settore ferroviario e come promesso nelle prossime settimane arriverà un video molto approfondito visto che me lo avete chiesto in tanti Per cui non scappate via nelle prossime settimane Non andate in vacanza Guardate per almeno sto video Per alcuni è un settore ciclico e sicuramente in una certa porzione lo è Credo che i freni del 2022 siano passati per UNP Questo perché anche con una contrazione dei trasporti commerciali e in questo caso si parla come ben sapete di trasporto commerciale ferroviario Il grande vantaggio di Union Pacific è che si trova in una condizione di duopolio negli Stati Uniti d'America e ha per cui un controllo maggiore dei prezzi della vendita dei propri servizi in un settore in cui la quasi monopolizzazione porta solo vantaggi alle aziende che ce l'hanno Anche in questo caso profonda sotto performance rispetto all'SP500 ma una sotto performance che è maggiore a cut però con un divenimento maggiore del 2.4% che viene aumentato da 16 anni consecutivi e che negli ultimi anni, negli ultimi 5 in particolare, ha avuto una crescita di quasi 14% anno Data la sua quasi monopolizzazione del mercato, essendo in una situazione di duopolio ha dei margini assurdi che per questo settore, che ha costi fissi enormi, sono comunque irrisoli 53% di margine lordo con una media del settore del 29% e un netto del 28% rispetto a un 6% della media del settore ha un controllo quasi assoluto sul prezzo secondo me Anche in questo caso azienda che non ha un prezzo al quale io entrerei, non è a sconto aspetterei un ulteriore calo o ci andrei con un piccolo ingressino a un'azienda che al momento ha una market cap di circa 133 miliardi di dollari e che trova anche me a avere una piccola posizione La terza azienda è T.R.O.Price, col ticker T.R.O.V. Azienda che piace moltissimo, se non erro, a Lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi e principalmente si occupa di cosa? Quest'azienda di investimenti sia per investitori istituzionali che retail o comunque grandi investitori Azienda che analizzai circa 3 anni fa e se siete interessati a un approfondimento fatemi sapere qui sotto che lo faccio volentieri In questo caso non ho una posizione Market cap di circa 27 miliardi di dollari e uno yield del 4% circa in un mercato che credo si stia riprendendo bene Il suo dividendo viene aumentato da ben 36 anni e negli ultimi 5 anni ha avuto una media di aumento del quasi 14% su base anno Sia margine lordo che margine netto sotto la media di mercato ma di pochi punti percentuali per cui posso dire quasi in linea e anche in questo caso dopo il rally di inizio all'anno ha perso un poco di appetibilità dal punto di vista della valutazione anche se ha performato più o meno come cat con una decina di punti percentuali di differenza rispetto all'S&P 500 E adesso se non siete scappati passiamo alle due aziende bonus La prima è Home Depot col tigre HD e ha 327 miliardi di dollari di market cap che ha performato malissimo da inizio anno fermandosi più o meno un 3% di capital gain ma leader quasi incontrastato rispetto all'ows per i fornitori di materiale per l'edilizia Ha un dividendo interessante del 2.6% che cresce da 13 anni consecutivi con una media degli ultimi 5 anni sentite un po' negli ultimi 5 anni di quasi il 16% Azienda gestita discretamente con un margine lordo in linea con il settore di riferimento e un onetto di grade lunga superiore alla concorrenza di quasi 11 punti contro il 4% della mediana di settore Ha un buon controllo dei prezzi in questo caso e anche e soprattutto a mio parere dei costi Azienda non ai massimi ma comunque vicino ai picchi del prezzo raggiunti nelle ultime 52 settimane La vedo in una posizione molto forte ma in ogni caso servirebbe un'analisi approfondita e se la volete fatemelo sapere che ci mettiamo sotto anche per On Depot ma passiamo all'ultima azienda prima di ricordarti che anche in questa azienda io ho una posizione L'ultima azienda di cui parliamo è l'Ambersearch con il ticker LRCX e rido perché questo pezzo visto che non riesco a parlare bene l'ho ripetuto 5 volte solo questo pezzo Azienda che ha polverizzato il rendimento dell'S&B500 ad inizio anno con un bel più 42% abbondante di rendimento Market Cap non enorme di circa 86 miliardi di dollari ma che sostanzialmente fa più o meno anche se non completamente lo stesso lavoro che fa ASML producendo apparecchiature per la produzione di semiconduttori e tecnologie connesse a questo settore un settore dominato quasi completamente come dicevo prima da ASML ma con un mercato enorme e dei margini da gestire in scioltezza a mio parere un dividendo molto basso rispetto alle altre aziende dell'1.1% in aumento da 8 anni con una media degli ultimi 5 anni ascoltate bene e per questo ve la porto del 22% su base annua la migliore dell'8 da questo punto di vista di queste 5 ovviamente che vi ho menzionato margine lordo del 45% e netto del 26% con una valutazione molto a di sopra di quanto un investitore consapevole e intelligente dovrebbe pagare per una qualsiasi azienda e quasi a un picco delle ultime 52 settimane un ingresso andrebbe valutato con molta cautela prezzo esploso sicuramente perché nel 2022 la situazione era un po' depressa con le sanzioni anche con gli attriti che Stati Uniti e Cina avevano ma le entrate anno su anno sono state piccole rispetto ai concorrenti cinesi che hanno registrato una crescita media del 62.6% e ora che sembra che tutto si stia diciamo distendendo o comunque piano piano ritorniamo alla normalità questo potrebbe avere un impatto molto positivo su questa azienda faccio così come Davide Desidoro ricordandoci che non sono consigli a investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo credimento con un bel polligione in su se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa bellissima community che cresce giorno dopo giorno con una maggiore presenza la tua iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche ring ring beh noi ci vediamo al prossimo video ciao a presto ciao a presto ciao a presto Grazie.